Clima, Dazi, Libero Mercato e tanto altro sono questi i temi al centro del G20 di Osaka dove Donald Trump gioca un ruolo e genuine. Dopo aver sbloccato i nodi su commercio e migrazione, gli Stati Uniti hanno ribadito loro no a un'intesa sul clima raggiunta dunque solo da 19 paesi. Washington si sfila come già accaduto al G20 di Buenos Aires e ribadisce la sua contrarietà all'accordo di Parigi. Per quanto riguarda la situazione commerciale le tensioni tra Cina e Stati Uniti sembrano infatti allentarsi grazie a un incontro tra Donald Trump e Xi Jinping definito dal tycoon eccellente. Il presidente cinese e il suo omologo americano hanno raggiunto un accordo sul riavvio dei negoziati sul commercio con Washington che non aumenterà i dazi sulle importazioni del made in China, in particolare su 300 miliardi di dollari ventilata nelle ultime settimane dalla Casa Bianca. A prevalere questa volta sembra la via della cooperazione che ha detta di Trump e Xi è l'unico modo per avere benefici utili a entrambe le parti.